Vendevano in tutta Italia accessori e parti di ricambio per cellulari, spacciandoli per originali. Smantellata dalla Guardia di Finanza, una filiera commerciale presente su tutto il territorio nazionale che importava dalla Slovenia i prodotti con i loghi contraffatti dei marchi Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi. Oltre 100 militari della Guardia di Finanza, in forza a 40 reparti sull'intero territorio nazionale, hanno eseguito ieri decine di perquisizioni presso aziende e locali commerciali che hanno portato al sequestro di circa 20.000 parti di ricambio ed accessori vari per la telefonia mobile, tutti riportanti marchi falsi. L'input per la maxi-operazione è partito dalla Guardia di Finanza di Ortona dopo una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Lanciano. Le indagini partite allo scorso autunno nell'ambito dei controlli che la Guardia di Finanza di Ortona effettua quotidianamente per il contrasto alla contraffazione avevano consentito il sequestro di oltre 15.000 pezzi rinvenuti all'interno di alcuni esercizi commerciali della provincia di Chieti. Attraverso un'attenta e meticolosa disamina della documentazione contabile e l'analisi sulle banche dati in uso al corpo è stato possibile ricostruire l'intera filiera commerciale di distribuzione e vendita in Italia e individuare nella società slovena di e-commerce il principale canale di ingresso e di approvvigionamento degli stessi sul territorio nazionale. È stato così possibile tracciare una precisa mappa dei centri di stoccaggio dei prodotti contraffatti presenti sul territorio nazionale che a sua volta hanno consentito di individuare numerosi negozi e piattaforme di vendita online dove lineari clienti potevano acquistare a prezzi più favorevoli accessori e parti di ricambi per i loro cellulari ritenendoli comunque originali. Fondamentale per il buon esito dell'indagine è stato il ricorso ai canali di cooperazione giudiziaria e di polizia a livello internazionale. L'autorità giudiziaria di Lanciano che coordina le indagini al momento è scritto nel registro degli indagati 22 persone titolari di imprese italiane che hanno importato prodotti contraffatti. Il reato contestato è l'introduzione nello Stato e il commercio di prodotti con segni falsi che prevede una pena dalla reclusione fino a 4 anni e 2 anni per chi vende tali prodotti.